E questa mattina si siamo riuniti qui in presidio per chiedere a questi signori un intervento sulla categoria della vigilanza privata. Per chi ci troviamo ad oggi, che le guardie giurate sono diventate inutili e vengono licenziate. Ci sono già oltre 5.000 persone in strada, nessuno sta prendendo provvedimenti. La categoria della vigilanza è stata schiacciata dal portierato, ma nessuno prende la responsabilità di queste persone che sono armate in un periodo di crisi. Noi da questa mattina urliamo, non si è affacciato nessuno. Quello che voglio dire a questi signori che ho gridato da questa mattina è che noi ritorneremo, perché qualcuno deve provvedere a questo negrato e noi non ce la facciamo più. Ma ci avete girato le spalle però? Dove siete voi? Quanti morti volete ancora? Quanti morti volete della vigilanza? Nessuno ne parla di questi assalti ai portavalori. Chi siamo noi? Siamo quelle persone che stanno ai porti, agli aeroporti, alle ferrovie, alle metrobus, ai bus, agli autobus, da tutte le parti, perché garantiamo la sicurezza. Ci avete giurato che ci volete ascoltare? Ci volete ascoltare? Ma dove siete? State bene voi al fresco? Siamo qui perché neanche ci pagano la quattordicesima gli istituti. Chiudono e rioprono con altro nome. E non pagano tasse. Vergognatevi! Grazie a tutti!